pronto e cara suocera mi puoi dire chi deve pulire il bambino quando fa la cacca il papà o la mamma sembra la mamma tocca tocca sempre la mamma ma allora a modo di venire qua veloce perché il bambino ha bevuto e se l'è fatto addosso perché c'è chi è che tu figli di te non ho capito sa che cazzo